allora e voglio ringraziare questa settimana come faccio in settimana le persone che hanno fatto delle donazioni adesso vi dirò i nomi di queste persone di questa settimana ringrazio graziana ringrazio mario ringrazio maria angela ringrazio caterina ringrazio carmen ringrazio denmark 001100 ci ha detto di dire questo nome quindi ringraziamo denmark 001100 poi ringraziamo daniele fiorenzo loriana natalia anne foglio mille grazie si adesso chiedo alla regia di mandare in onda il video allora ringrazio morris è il team e chiamo la famiglia e mi chiamo valla danilo allora grazie per il pensiero di inviare un sostegno per la mia opera traduzione della bibbia grazie sono sicuro che sarà utile è il vostro pensiero è stato davvero prezioso e sarà importante per tutto il mio lavoro grazie di cuore veramente ancora per questo sostegno un saluto caro nel nome di gesù a presto ciao ciao un saluto po